Incidente stradale ieri sera in via Spineta, dove un camion si è ribaltato dopo essere uscito fuoristrada e ha perso il carico. A causare l'impatto sembra sia stata una manovra d'emergenza da parte dell'autista del tir per schivare un'auto ed evitare lo scontro tra i due mezzi. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato il camionista in ospedale. Nelle ore successive al sinistro gli automobilisti sono stati deviati verso strade adiacenti alla provinciale che conduce in Litorania.